Sarà stato uno snitch, ma ora non sono più online Sono Edoardo Pannato e vivo nel blackout Mi hanno oscurato ogni singolo account Da quando un giorno anziché suonare rock Ho postato un porno integrare su TikTok Ho minacciato i miei colleghi all'Aurospin Tramite messaggi anonimi su LinkedIn Ti ho molestata su Tinder, ma con le foto di un altro Ti ho trafficato su Vinter, medicinali di scarro E i cellulari cronati li vendevo su eBay Su YouTube caricato tutti i video contro gli ebrei Sono Edoardo Pannato e vivo nel blackout Mi hanno oscurato ogni singolo account Da quando un giorno anziché suonare rock Ho postato un porno integrare su TikTok Aperto che se ti invito a cliccare il link mio Poi ti si apre il sito, ma c'è scritto Sono Edoardo Pannato e vivo nel blackout Mi hanno oscurato ogni singolo account Da quando un giorno anziché suonare rock Sono andato al cinema e ho postato su Vimeo Piratando tutto quanto un film con Edoardo Leo Ora non ricordo il nome ma stavo con la mia ex Quella che mi ha denunciato per le foto su Edoardo Pannato e vivo nel blackout Grazie